Un'area dedicata al fitness, il restauro dello spazio giochi per i più piccoli, ancora una biblioteca per conoscere la storia dei giardini e del Tempio Voltiano, sono soltanto alcuni degli aspetti dei nuovi giardini al Lago di Como. Ieri il via libera della giunta cittadina al progetto definitivo di riqualificazione. L'obiettivo è dare maggior luminosità all'intero comparto, spiega l'architetto Gianni Artuso alla guida del team di esperti che si sta occupando del progetto. Il parco è stato alleggerito e siamo intervenuti sugli elementi ridondanti. I nuovi giardini dovranno essere infatti un unicum con il progetto degli arredi del lungo lago. E proprio per questo motivo, oltre a tiglie di ipocastani, saranno posizionate alcune delle piante che compariranno anche lungo la passeggiata al lago. Sarà un parco tematico, continua il professionista con un'area dedicata ai bambini che vedrà il recupero dei giochi esistenti che saranno restaurati. Poi una zona fitness, una cerniera tra i giardini e la zona stadio e ancora un'area museale dove recupereremo elementi storici come la maschera del fontanone che sarà demolito. Infine l'oramai nota battery sarà un luogo polifunzionale, aggiunge Artuso. Vi saranno collocati un piccolo bar, una biblioteca che ospiterà la storia dei giardini al lago e del Tempio Voltiano e anche uno showroom che potrebbe essere utilizzato per diverse funzioni, tra cui anche quella di Infopoint. Il prossimo step ora riguarderà indire la gara, poi una volta giudicata potranno partire i lavori. Taglio del nastro, previsto nell'estate del 2023.